Nel match clou della ventunesima giornata di eccellenza, i nerostellati si impongono sull'Albarriatica conquistando una vittoria messa in ghiaccio dai pelini già nella prima mezz'ora di gioco. Mister Di Marzio si affida al collaudato schieramento che ha in avanti Palombizio riferimento centrale, supportato dai Sotti, con Pacella e Vitone, ad agire nel cuore di una mediana completata dagli esterni Moscone e Rossi. Dall'altra parte Di Serafino può contare in attacco su Lazzarini, assistito da Florimbi in una fase avanzata che ha nell'esterno di Giorgio uno dei principali interpreti. Avvio promettente dei nerostellati pericolosi con Palombizio che non approfitta di una favorevole occasione per sbloccare il risultato. Arriva subito la risposta dell'Alba con un tracciante di Florimbi che si spegne a fondo campo. Al dodicesimo su corner in favore dei nerostellati colpo proibito di Adamoli sul volto di Palombizio, il tutto sotto lo sguardo di Francesca del Biondo della sezione di Pescara che assegna il penalty, estraendo il cartellino rosso per il difensore Albense che lascia i suoi in inferiorità numerica. Sul dischetto si presenta Sotti che col suo sesto centro in campionato porta avanti i nerostellati. Parte Isotti, rete, nerostellati in vantaggio, Guglielmo Isotti. A metà del primo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa. Regolare la posizione di Pacella pronto a correggere in rete la conclusione di Moscone per il 2-0 di Marca Peligna. Poco dopo sussulto dell'alba triatica ma sul colpo di testa di Fabrizi meo c'è. Al ventottesimo nerostellati ancora a bersaglio sul corner di Vitone e Palombizio a firmare il 3-0 facendo scattare la legge dell'ex per la grande esultanza del pubblico di casa. La squadra di Di Marzio non si accontenta e prima dell'intervallo va vicina alla quarta rete quando Moscone si allunga il pallone al momento del dunque. In apertura del secondo tempo Nanni rileva Vitone nei nerostellati mentre nella truppa albense Di Nicola prende il posto di Antonacci. Nonostante il pesante passivo e l'inferiorità numerica, l'alba adriatica non rinuncia a pungere. Al sessantesimo è Giallonardo a togliere le castagne dal fuoco ai suoi in quelle che sono le avvisaglie del gol albense realizzato da Florimbi al sessantaquattresimo. Nei nerostellati Antonucci subentra a Rossi, sull'altro fronte Liguori rileva Florimbi prima dell'espulsione di Ponticelli che a un quarto d'ora dal novantesimo ristabilisce la parita numerica. I peligni soffrono, Calvaresi ci prova, Mameo risponde presente. Di Marzio rinforza gli ormeggi inserendo di bacco per Palombizio con i nerostellati che chiudono gli spazi e agiscono in ripartenza. Quattro minuti di recupero e al triplice fischio finale parte la festa nerostellata per l'undicesima vittoria in campionato che avvicina sempre di più. Una salvezza aritmetica ormai a un passo per la matricola del centro Abruzzo, ad oggi in zona playoff. Domenica prossima trasferta sul campo del Cupello, l'unica squadra sin cui capace di vincere a Lezio Ricci. Uno stimolo in più per Pacella e compagni. Per l'ennesima volta questo gruppo sta dimostrando di valere la classifica che ha. A questo punto, visto i 37 punti, è giusto predicare umiltà, però è giusto pure che a questo punto i ragazzi, insieme a me, insieme a tutti, alziamo questa sticella della difficoltà perché a questo punto è giusto che ce la possiamo giocare, ce la dobbiamo giocare come abbiamo fatto fino adesso, alzando quella sticella perché ha 37 punti. Non dico che siamo salvi, però dopo 20 partite avere questi numeri ci deve far crescere in personalità di andare a questo punto e cercare di quanto meno di rimanere là sopra il più tempo possibile. Matteo Pacella, sei andato in gol, ma non solo. Ci sei piaciuto molto in questa partita, diversi palloni recuperati, una gara notevole da parte tua in fase di interdizione oggi. Sì, ci teniamo particolarmente per il gol perché, se ricordi la parte dell'andata, avevo qualcosa da farmi perdonare a tutti i tifosi di Prato L'Animo, soprattutto ai miei compagni. Quindi sono contento per il gol, ma è il merito di tutta la squadra perché su un campo limite della praticabilità abbiamo fatto una partita a Cagliarda, una partita ai limiti della perfezione. Forse non ci voleva quel 3-1 che ha aperto un pochettino la partita, però faccio i complimenti a tutti i miei compagni perché abbiamo veramente meritato la vittoria contro una squadra ben organizzata. Mister Di Serrafino, un passivo per 3-1 al termine di una partita compromessa nel primo tempo. Sì, l'episodio iniziale ha compromesso, però diciamo che la partita era ancora persa, infatti si è visto nel secondo tempo, abbiamo fatto un grande secondo tempo, abbiamo creato anche delle occasioni, forse siamo stati ingenui nel secondo e nel terzo gol, però nel calcio ci stanno, l'albitro ha visto così, nello stellati hanno vinto, complimenti, proseguiamo, ci sta la sconfitta, ci sta, sicuramente brucia perché forse il mio calciatore ha fatto una sciocchezza, se ha dato veramente, gli devo chiedere, adesso gli chiederò se l'ha fatto, è stata una sciocchezza che abbiamo pagato a caro prezzo.